Il gruppo della Lega Nord di Albino ha presentato una mozione che verrà discussa in Consiglio Comunale sulla presa di posizione dell'assessore alla pubblica istruzione della cultura in ordine al discorso delle scuole paritarie chiedendo addirittura la revoca delle deleghe da parte del sindaco. Cosa ne pensa l'assessore? Io credo che la Lega di Albino abbia frainteso completamente il discorso. Prima di tutto la email che è stata senza autorizzazione inoltrata a qualche rappresentante delle scuole paritarie ma non mi dispiace, anzi così possiamo parlarne, si lamentava dei nuovi criteri di assegnazione della dote scuola che in versione scuole paritarie si chiama Buono Scuola della Regione Lombardia e citando un articolo apparso sull'Eco di Bergamo del 15 febbraio che elogiava la Regione per avere alzato i criteri di assegnamento della dote per i genitori, per le famiglie che iscrivono alle scuole paritarie, faceva un ragionamento secondo me assolutamente da contestare e cioè si vantava che famiglie che hanno redditi fino a 100.000 euro all'anno possano accedere a un contributo della Regione per mandare i figli alle scuole paritarie quando per chi iscrive alla scuola statale il contributo è 10 volte meno ed è limitato a 15.500 euro di ISE e l'ISE ricordo che oltre ai redditi valuta anche il patrimonio per cui per fare degli esempi se uno possiede patrimonio per milioni di euro e dichiara 60-70.000 euro di reddito la Regione gli dà qualcosa per mandare il figlio alla paritaria se io ho delle famiglie che hanno poco reddito e stanno pure in affitto la Regione non gli dà nulla questa è la polemica io la polemica la faccio con la Regione, non con le scuole paritarie tant'è vero che alle scuole paritarie, ad Albino abbiamo concesso negli ultimi tre anni gli stessi contributi che erano stati concessi fino all'anno prima è l'unica voce che non è stata tagliata nel bilancio del Comune, il contributo alle scuole paritarie e io personalmente ho portato alla mia maggioranza la richiesta di assegnare un contributo straordinario alla scuola di Fiobio di 7.500 euro che è stato approvato l'anno scorso ma che chiaramente mentre si dice ai 420 che noi tagliamo, che siamo contrari e così via non si rende mai giustizia nel dire anche le cose che facciamo e quindi per questi motivi ci difenderemo in Consiglio ma non credo che sia questione di difendersi credo che sia questione di scegliere da che parte si sta noi stiamo dalla parte di chi ha più bisogno gli altri decidano dove vogliono stare quindi la mozione farà il suo corso ma sicuramente lei non ha nessuna intenzione di dimetterci diciamo la mozione non chiede a me di dimettermi quindi come dire però credo proprio che né il sindaco né la maggioranza abbiano intenzione di prendere in considerazione l'avvocato delle deleghe ringraziamo l'assessore Chiesa da Albino Lina lo studio Grazie.